Sono stato denunciato dalla forestale Il signor Spanerico è stato affisato che si proceda a denunciarlo alla procura della repubblica presso il tribunale a relazione delle seguenti norme Articolo 342 del codice penale, oltraggio corpo politico amministrativo giudiziario in relazione ai fatti commessi in data 27.05.2024 Ok, mi sa che abbiamo un problema È da tanto tempo che desideravo parlarvene ma non ero sicuro di poterlo fare e a dir la verità non sono sicuro nemmeno ora ma non riesco a tenermi tutto dentro, mi dispiace Chi mi segue da tempo ed iscritto al canale se lo ricorderà che diversi mesi fa, poco prima dell'arrivo dell'estate siamo stati circa una decina di giorni in Supramonte alla scoperta di luoghi selvaggi come sempre con il nostro van Una zona davvero incredibile dal punto di vista naturale e paesaggistico per chi è appassionato come noi ma come ho sempre detto e sottolineato in quei video alcune aree in particolare risultano essere tra le zone meno tolleranti in assoluto in Sardegna riguardo a sosta libera, bivacco e qualsiasi altro tipo di attività che non porta denaro ai campeggi, ai parcheggi a pagamento e a qualsiasi altro tipo di attività che si sono inventate da quelle parti insieme ai divieti perché sì, sono dell'idea che la tutela ambientale in questi casi sia solo una scusa per giustificare un'enorme fame di soldi ma ora non vorrei parlare in questo video anche perché abbiamo avuto modo di trattare l'argomento nei video precedenti durante quei giorni e che vi invito a vedere o rivedere ma torniamo a quella settimana in Supramonte come ricorderete c'è stato un episodio in cui siamo stati cacciati via durante la notte dai baracelli è stato realizzato un video quel giorno era l'episodio 4 che per il momento ho preferito oscurare rendere privato tra l'altro peccato perché era un video che stava andando molto bene e che stava dando origine a degli ottimi spunti di riflessione nei commenti nonostante la shitstorming iniziale da parte di qualche local indignato per quanto riguarda il nostro modo di vivere e di visitare i luoghi ma ora riassumiamo in breve cosa è successo esattamente quel giorno eravamo davvero stanchissimi e nonostante ci fossimo trovati dopo una lunga ricerca uno spot ben isolato, nascosto, poco conosciuto, lontano dal paese lontano dal mare e lontano da qualsiasi meta turistica sono venuti a cercarci fin lì per mandarci via durante quel momento non abbiamo aperto bocca sapevamo che comunque da quelle parti c'è sempre una percentuale di rischio ovunque e che quindi sarebbe potuto capitare e ci hanno obbligato ad andare via nonostante però proprio in quel luogo non erano presenti cartelli di divietto né di campeggio né di sosta e c'è da dire soprattutto che infatti noi non stavamo campeggiando ma eravamo parcheggiati normalmente di fianco a una chiesetta campestre a farci fatti nostri all'interno del nostro veicolo in totale tranquillità e senza togliere nulla o reccare disturbo a nessuno ma vabbè fatto sta che in quel momento non avevamo assolutamente voglia di stare a discutere con loro e ce ne siamo andati via anche perché hanno teso per circa 15-20 minuti puntandoci delle potentissime torce addosso finché non ci hanno seguiti in auto per indirizzarci fino alla strada statale situazione veramente fastidiosa ma abbiamo mantenuto la calma e non abbiamo aperto bocca fino al momento in cui siamo giunti alla strada statale e ci siamo detti è ora? dove andiamo? cosa facciamo? erano le 11.30 della notte a quel punto la sonnolenza, il silenzio e la tranquillità hanno iniziato a farsi da parte per dar spazio a sentimenti ed emozioni poco piacevoli come fastidio e nervoso in aumento oltre alla sensazione di sentirci trattati come degli schifosi e pericolosi parassiti della società destirpare nella maniera più assoluta mentre ci trovavamo da soli all'interno del van fermi a bordo della strada statale con Claudio abbiamo iniziato a esprimere tra di noi il nostro dissenso e poco dopo ho iniziato a sfogarmi attraverso i video e la videocamera lo ammetto, in quel momento ho utilizzato un linguaggio un po' colorito ma in fase di editing mi sono impegnato a censurare tutte le parolacce e alla fine, verso mezzanotte, abbiamo dovuto cedere al classico campeggio e la storia è finita lì più o meno ma ora arriva la parte davvero interessante un mese e mezzo dopo la pubblicazione del video ho ricevuto una chiamata sul cellulare da parte di alcuni amici del cuore ovvero la caserma del corpo forestale sono stato chiamato e obbligato a presentarmi in caserma per compilare e firmare il verbale di identificazione tra l'altro era il 14 giugno ed era il giorno dopo del mio compleanno e questo è stato il bellissimo regalino che hanno pensato di farmi una bella denuncia una denuncia per presunto reatto penale quindi ben più grave di una civile l'accusa specifica? beh, sono passati alcuni mesi e ancora non lo so per ora so solamente che l'accusa è quella di oltraggio a pubblico ufficiale e la data risale a quella della pubblicazione del video di cui vi ho parlato prima ma ci sono tante cose che non tornano con ciò che è accaduto come ad esempio il fatto che noi la forestale quel giorno non l'abbiamo nemmeno mai incontrata quindi mi viene da pensare che mi stiano accusando per qualcosa che ho detto nel video come ad esempio nominare la forestale e dire che se fossero stati loro a cacciarci via al posto dei barraccelli quella sera è probabile che sarebbero stati più fastidiosi e puntigliosi solo che anziché utilizzare la parola fastidiosi ho utilizzato un termine un po' più volgare ma che io onestamente non trovo poi così offensivo tra l'altro un termine che utilizzo nel mio linguaggio di tutti i giorni come sinonimo di fastidioso o pesante per modo di dire quindi vabbè questo è stato detto in un momento in cui esprimevo i miei pensieri riguardo a tutta la situazione assurda e non mi riferisco a questo caso specifico ma mi riferisco a tutta la situazione generale considerando che in quel periodo a inizio stagione puntualmente veniamo attaccati e discriminati come categoria anche dai numerosissimi articoli di giornale che leggiamo in cui vengono scritte quotidianamente una marea di idiozie senza fondamento riguardo al campeggio abusivo i campi di stizzazioni alla rovina della Sardegna per colpa dei camper dei diviti che aumentano delle multe e della gente che spudoratamente si permette pure di dire che quelle come noi sono persone inutili perché non portano soldi alle strutture ricettive questo è tanto altro tutti i giorni da aprile a giugno una repressione continua e via via crescente insomma sono cose che giorno dopo giorno fanno aumentare pure la nostra intolleranza fanno diminuire la sopportazione e la calma per cui a un certo punto ci si sfoga e io parto come un treno ma secondo voi ora ha senso aver mosso tutto sto casino e arrivare a una denuncia penale? ma per cosa? ma siamo seri? ecco più ci penso e più mi convinco che questo possa essere un dispetto e una scusa per punirmi per aver fatto una cattiva pubblicità al territorio ovviamente la cattiva pubblicità non è riferita ai paesaggi e alla natura infatti sotto i video pubblicati mentre ci trovavamo in quella zona come dicevo prima ho ricevuto oltre a tantissimi apprezzamenti anche una shitstorm bella pesante da parte di alcuni locals e persone del posto un po' permalosine è che tra l'altro si sono pure nascoste dietro di profili falsi beh almeno io ci metto la faccia probabile quindi che il video si sia diffuso tra i locals e che poi a un certo punto si è arrivato agli occhi di chi ha tra le mani un certo potere chissà ovviamente io non sto affermando che sia per forza così ma sono solo delle mie supposizioni il fatto è che trovo davvero assurdo che si arrivi al punto di voler rovinare una persona che sarei io per delle frasi non poi così scandalose pronunciate in un video la forestale che si mobilita e si impegna per queste cose cioè manco se avessi messo le mani addosso a qualcuno avessi opposto resistenza a un pubblico ufficiale ostacolando il suo lavoro o se avessi detto veramente qualcosa di offensivo e pesante nei confronti di qualcuno in particolare ma dai non scherziamo e ora tanto so già che qualcuno verrà a dirmi però sei cercata dovevi stare zitto mi dispiace ragazzi ma a me questa cosa di subire e stare in silenzio non è mai piaciuta sapete che la libertà di cui tanto spesso si parla non è solo questa alle mie spalle godere di certi posti e girare in van ma la vera libertà parte da qui parte dal pensiero e parte dalla possibilità di potersi esprimere su qualsiasi cosa si voglia ecco lo ammetto magari dovrei imparare a utilizzare parole un po' meno dure alle volte questo è vero vi chiedo di essere comprensivi ma non è facile e credetemi faccio veramente un grande sforzo e la forma di libertà più grande è quella di essere sempre se stessi che piaccia o meno agli altri tra l'altro questo non è un canale in cui si raccontano solo le cose belle ma si racconta la realtà per cui se cercate dei video in cui si racconta solo il bello e ci si volta dall'altra parte appena si presentano i problemi beh avete sbagliato il canale per concludere quali saranno le conseguenze per me adesso? multa da migliaia di euro? possibile fede di una penale sporca? possibile finire in tribunale? possibile finire in prigione? spero di no ma di questi tempi non si sa mai visto come stanno andando le cose in Italia e nel mondo l'unica cosa certa è che ora dovrò spendere un sacco di soldi in ogni caso soldi che non ho perché sono povero come la merda scusate la cacca e che dovrò trovare prima di tutto per pagarmi un avvocato che sono obbligato ad avere trattandosi in questo caso di denuncia penale beh diciamo che avrei preferito spendere i miei pochi risparmi in qualcosa di decisamente più utile ora non è il mio solito fare annunci di questo genere ma nel caso in cui ci fosse qualche anima buona e comprensiva che fosse disposta a volermi dare una mano con le spese può fare liberamente una donazione tramite paypal il link vi lascio qui sotto in descrizione ovviamente ci tengo a precisarlo nessuno è obbligato quindi chi lo vuole fare lo fa chi non lo vuole fare pazienza insomma me la caverò in qualche modo e ringrazio infinitamente di cuore chi si sentirà di farlo ma ora prima di salutarvi voglio lasciarvi con alcune domande e riflessioni da fare secondo voi queste punizioni serviranno a qualcosa di concreto? diventerò una persona diversa? cambierò il mio modo di essere e di vivere? la mia opinione riguardo al lavoro svolto dalle forze dell'ordine migliorerò o peggiorerà grazie a queste punizioni? adesso nutrirò maggiore simpatia o maggiore antipatia nei loro confronti ha senso tutta questa repressione? beh io stavolta non mi esprimo lo lascio a fare a voi nei commenti e siate liberi mi raccomando ma niente paroline cattivine grazie a tutti per l'ascolto e per la comprensione noi ci vediamo al prossimo video con nuove avventure là fuori sempre full gas e a testa alta ciao non posso salutarvi così senza farvi vedere almeno qualche immagine di questo posto bellissimo in cui mi trovo ora cioè dopo tutte le cose negative di cui vi ho parlato in questo video almeno qualcosa di bello di positivo ve lo meritate ciao I'm slowly sinking in salt water